Come si declina il telecontrollo in chiave di collaborazione tra aziende private e amministrazioni pubbliche? Guardi, più che parlare di telecontrollo parliamo di quello che può essere il vero valore per combinare le attività di tipo industriale con quelle di tipo pubblico. Quindi il territorio e le aziende unite facendo fronte comune per trovare delle soluzioni innovative. Il telecontrollo ovviamente è uno degli elementi fondamentali. Noi sappiamo perfettamente quanto le nostre città ha bisogno di innovazione e di manutenzione che è un must. Il fatto di poter rivedere le reti idriche, le reti elettriche, le distribuzioni, l'edificio intelligente sicuramente sono un must per una città. Torino ne è un esempio perché col progetto annunciato dall'assessore, progetto Cruscotto, è un tema che noi ci vediamo molto interessati e coinvolti. Tant'è vero che i propositi delle riunioni di oggi e di domani sono quelli di preparare poi un documento per essere pronti ad affrontare il tema che ha annunciato l'assessore e quindi trovare un link forte tra industria e pubblico in modo tale da trovare un investimento comune per progredire nelle nostre aziende. Telecontrollo e reti intelligenti, quali possibilità per lo sviluppo economico delle aziende? Noi sappiamo che il mondo in generale ha bisogno di manutenzione. Tutte le tecnologie oggi che si ci presentano sono tecnologie estremamente evolute in un contesto di un'obsolescenza molto forte. Noi sappiamo che a partire dalle centrali termoelettriche e alle abitazioni c'è un mondo ormai obsoleto che ha bisogno di innovazione, di revamping, di retrofit e di attività. Quindi un'ottima palestra per tutti per lavorare, per creare valore e sviluppo. Quindi io credo assolutamente che questa sia una possibilità concreta per dare lavoro alle aziende. Grazie.